Musica Benvenuti le previsioni del tempo per domani, domenica 19 gennaio. Un maltempo su tutta la penisola, piogge diffuse sulla quasi totalità delle regioni, eccetto il medio adriatico. Piogge moderate o forte in Toscana, su tutte le Alpe e le Prealpi, con neve sopra i 900 metri al nord-ovest e sopra i 1.200 al nord-est. Maltempo sul Basso Lazio, con forti temporali, piogge inizialmente forti anche su Sicilia, Calabria, Sud Campania e Puglia Meridionale. Migliorerà nel corso del pomeriggio. Neve in appennino centrale sopra i 1.400 metri e a cote elevate al sud. Arriveranno da sud ovest masse di aria molto mite e umida che causeranno la formazione di addensamenti nuvolosi. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con schiarite. Nel corso della giornata arriveranno addensamenti più estesi associati su molte zone a piogge miste a sabbia del Sahara. Temperature in diminuzione dal pomeriggio. Venti moderati da sud, sud ovest, mare mosso. Grazie. 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 Grazie.